Si comincia dall'inizio e dal principio, A, B, C, perché non ho capito? Ogni giorno con la mente faccio un passo indietro e vado avanti vivendo ciò che non ho passato. Così capisco l'importanza di un pericolo, viverlo rischiando di entrare in un cunicolo. D, E, F, soffrire, farsi male, devo arrampicarmi se non voglio affogare. Non farti superare dalla vita, domina la situazione ma stai tento alla mina. Ragante, G, H, I, Siediti, seduto a stante, riflettere su quello che hai fatto e che farai è importante. Quanto coprire quelle mancanze, dimenticanze che ti fanno stare zitto. Non te le sai spiegare se non con il silenzio, ma dalle...